E forse è arrivato il momento di parlare di Nicolo Rovella, che si sta prendendo il centrocampo della Lazio. Altra ottima prestazione contro il Sassuolo in questo turdo di Serie A, dove ha mostrato le sue qualità, le sue caratteristiche. Ovviamente può migliorare sotto certi aspetti, ma sembra essere davvero un centrocampista già fondamentale per la Lazio di Sarri. E chi ridacchiava perché Rovella inizialmente non giocava deve ricredersi, o forse deve nascondersi. Infatti ha saltato entrambe le partite di Champions e le prime due di campionato, pur stando sempre in panchina. Poi ha iniziato giocando da subentrante, esordendo proprio contro la Juventus, che lo ha mandato due anni in prestito alla Lazio, evidentemente non ritenendolo all'altezza, per poi essere titolare per quattro partite consecutive. E nelle quattro partite consecutive in cui di campionato Rovella è partito titolare, di cui uno anche da 90 minuti, la Lazio ha perso soltanto contro il Milan. Le altre sono tre vittorie, compresa questa contro il Sassuolo, in cui il suo apporto è stato fondamentale. Un totale quindi di 345 minuti ad oggi, nelle sei presenze, in attesa dell'esordio anche nella Champions League, ma Sarri gli ha dato il tempo di mettersi al livello delle sue richieste. E Rovella ha fatto abbastanza presto, non si è fatto attendere. Adesso è un titolare quasi inamovibile, Sarri ci punta e Sarri è uno che ci capisce, o no? Tra l'altro Rovella è ventesimo in tutta la Serie A, considerando tutti i calciatori e tutti i ruoli per precisione dei passaggi. Solo altri 19 giocatori hanno una precisione più alta della sua, che è 93,6%, qualcosa di pazzesco. Che cosa sa fare? Sa proporsi sempre con i tempi giusti, quindi bravissimo a farsi trovare dai difensori ma anche dai centrocampisti. Una volta che si è proposto e magari ha scaricato il pallone o lo ha giocato anche lateralmente o in avanti, resta sempre in zona palla e quindi dà il pallone e poi si smarca. Si fa trovare in sostanza sempre libero e sempre ad una stretta distanza, ad una breve distanza dal portatore, così da essere sempre pronto e disponibile. Lo fa con grande gamba, con grande ritmo, può aumentare sicuramente la velocità di esecuzione, può aumentare la rapidità, può quindi migliorare il ritmo di gioco che riesce a dare alla squadra. Ma non è bravo solo in questo, è molto bravo anche nello schermare le iniziative avversarie, frapponendosi tra il portatore e un giocatore alle sue spalle che potrebbe ricevere il passaggio, quindi chiudendo le linee di passaggio. In questo è veramente molto bravo. Bravo anche nel recuperare il pallone un po' troppo falloso, in alcuni casi come gli può capitare quando magari sbaglia un appoggio, sbaglia un passaggio, il che comunque è abbastanza raro e non è tanto frequente. Poi ovviamente può dare un maggior contributo offensivo, ma il suo ruolo sostanzialmente è quello di star lì davanti alla difesa a fare la prima impostazione pulita che per Sarri è fondamentale ed è anche molto bello vedere Rovella muoversi armoniosamente tra avanti e dietro con scambi e interscambi di posizione con gli altri centrocampisti, Luisa Alberto eccetera. Un centrocampista davvero di grande qualità, che quindi ha anche un'ottima gamba, sa essere anche aggressivo, il giusto, quando si tratta di recuperare il pallone. Uno che vuole avere il pallone tra i piedi si vede e quindi non accetta di non averlo, non accetta di star lì ad aspettare che si possa recuperare il pallone minuti interi. Vuole giocare, vuole essere partecipo, vuole toccare tanti palloni e vuole farlo anche molto bene. Quindi bravo sia con il pallone tra i piedi, sia senza palla, sia quando la sua squadra è in possesso, sia quando non è in possesso e quindi quando si tratta di smarcarsi o quando si tratta di andare a riconquistare. Un'ottima notizia che Sarri abbia trovato il suo Rovella e Rovella abbia trovato il suo posto nella Lazio anche per la nazionale italiana, perché un centrocampista così al calcio italiano serve da molto troppo tempo e forse grazie a Sarri ce l'abbiamo. Grazie. 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 Grazie.